ciao sono Sara mi piace presentarmi come anima creativa in continua crescita e sono stilista e grafica da più di 11 anni ho avuto la fortuna di vestire un mondo di donne completamente diverse tra di loro fino ad arrivare a disegnare abiti culture da sposa ricamati a mano ho deciso tornando in italia di continuare questo lavoro freelance ho intrapreso anche la direzione insegnante yoga e operatrice reiki ho visto i benefici uscire da questi esercizi da questo lavoro energetico volevo condividerlo con più gente possibile e da aiutare anche gli altri come vedete mi piace anche dipingere per questo dico un'anima creativa in continua crescita perché mi piace esplorare mondi nuovi un modo per far uscire emozioni che sono difficili esprimere in parole mi piace sognare e mi piace anche realizzare i miei sogni